Gli italiani sempre più tecnologici anche quando viaggia non è la prova il successo di Alexa Smart Properties Hospitality. L'assistente vocale di Amazon festeggia il suo primo anno negli alberghi del bel paese con l'occasione durante un evento milanese presentata la collaborazione con il gruppo BWH Hotel Italia e Malta. Abbiamo già migliaia di stanze disponibili con Alexa integrata lungo tutta la penisola italiana e l'Italia rappresenta il paese a più rapida crescita in termini di adozione del servizio dopo gli Stati Uniti. Alexa applicata al mondo dell'hospitality diventa una compagna di viaggio che può mettere la musica preferita piuttosto che dare informazioni sul meteo oppure settare la sveglia all'interno della stanza ma diventa in vero e proprio voice concierge, un concierge virtuale che ti dà informazioni sia sui servizi dell'hotel sia sui servizi della destinazione. La scelta di collaborare con Amazon e di introdurre Alexa all'interno degli hotel nasce dalla volontà di assecondare le attitudini dei nostri clienti, dei nostri ospiti che cambiano e che sempre più sono abituati nella loro quotidianità ad utilizzare questi strumenti tecnologici e digitali che favoriscono l'accesso ai servizi, che favoriscono e rendono più semplice il godimento degli spazi. Il viaggiatore italiano è innanzitutto molto interessato alla tecnologia quindi sappiamo per esempio che il 90% degli italiani ha interagito almeno una volta con un assistente vocale. Questo ovviamente è un'indicazione importante anche per tutte quelle strutture ricettive che stanno in questo momento investendo in questi strumenti per facilitare sempre di più l'esperienza dell'utente che sono ormai pensate il 18%, quindi il 18% delle strutture ricettive italiane ci dice di aver investito su strumenti legati all'intelligenza artificiale nelle stanze.